cosa la porta da noi mi hanno detto che forse avete una stanza pensava che fossimo un bed and breakfast è uno sconosciuto salve sapevi che aveva una moglie chi sono queste persone chi sono sono venuti per vedere me vieni presto tu sei pazzo assassino dio ti aiuti grazie